30% da due La persa, la possibilità di correre per Pesaro, lo fa Blackmon Monaldi and off per Blackmon con due secondi, Blackmon deve forzare la triple in step Primo giocatore di Brescia ad arrivare in doppia cifra per quello che riguarda i punti fatti Blackmon viene però dimenticato Viaggia verso le sue medie e ora recupera anche un gran pallone Esperienza e chilogrammi Quatt dall'altra partita Uno su due che dunque porta la Germani sotto di sei lunghezza sul 58 a 52 Il ribaltamento per Blackmon nella Sei nella partita di Mokevicius e la possibilità addirittura di incrementare il gap ora per Blackmon che va da solo Oppa occhio, possesso difensivo per Pesaro, prova a correre Blackmon che si alza per la tripla Al termine di una partita che sinora sta viaggiando assolutamente sui binari dell'equilibrio Blackmon dall'altra parte non ci riesce, tripla corta e la volata dall'altra parte è guidata prima da Artis e poi da Sfumare per la Germani, occasione che vorrebbe Blackmon ora sempre lui con le mani sulla partita Gius che anticipa l'avversario, riapre il contropiede della VL con l'entrata facilissima Ativi, meno 9, Pesaro, Ndià in palleggio, l'anticipo di Blackmon Rimbalzo contestato tra le due squadre, Artis riapre per Blackmon Rimbalzo, la palla è preda prima di Artis e poi di Blackmon, Blackmon è già dall'altra parte contro Aria e Filloi alza Poi però Artis favorisce e recupera la ripartenza velocissima con Blackmon Trova il ferro, il tentativo di Panther, il contropiede Parte dell'ex Avellino, 43 a 44, partita che ora viaggia completamente sui binari La palla, sa come trovare i compagni liberi, l'ha fatto vedere anche in questa prima parte di gara Blackmon, la panace arampica sul 53 Blackmon proprio contro Cole Lo Fasket, in caso esista per il contropiede di Secondo assist della partita del giocatore di Chicago Dall'altra parte Blackmon Operare per la squadra in possesso, Pallin a questo momento Tiene il palleggio attivo, è bravissimo Conti di quarto periodo, Blackmon chiude il palleggio Spallino riuscirà ad alzare ancora le sue medie La fuga di Artis, la palla fuori per Blackmon Soliti O perlomeno, tanti ne abbiamo visti in questa stagione Passaggi a vuoto difensivi per la Pesaro, Mokcevicius riceve da fuori area Si affida poi a Blackmon, il suo passo di incrocio Tira 12 punti individuali Dall'altra parte Blackmon per il tiro da tre punti Classe 2000 Ovviamente con McCree fuori Possiamo fare di necessità virtù qua Pasticcia un po' Blackmon Mokcevicius che tiene di vita questa palla Arriva il fallo di Kevin Panther Al nativo di Aprilia, Blackmon che prova ad andare fino in fondo Alza questa parabola Poco congegnare la soluzione di Krubali Che in questi casi ha ragione solo se sei Una difesa per Alcantù in questo momento Al final di atti Tutta da seguire ovviamente con la sfida in mezzo all'area Beneficia Blackmon non vede Mokcevicius e alla fine deve prendere un tiro Su Lions, Munaldi per Blackmon che prende Spara! Di Ramagli Blackmon lo spazio per... Grande punto di riferimento dal punto realizzativo anche per la nazionale italiana Gioco 2 centrale Mantiene attivo il palleggio Gol e tempo Penetrazione con il tiro aria Che purtroppo Colino non è stato in grado di controllare E poi non rientra abbastanza velocemente Per difendere sul centro di Bologna Che va anche con... Monaldi che scambia con Zanotti Palla messa nelle mani di Blackmon Ennesimo Nelle mani di Blackmon Blackmon adesso rimane contro Spizzichini Potrebbe attaccare Lo fa impazzire In step back Chase Blackmon Cri su Blackmon Che va fino in fondo ad appoggiare la... Cosa? Pensa per un attimo alla riga di fondo Apre bene Buon recupero difensivo in emergenza da partigliare il Filloy Che adesso però deve abbassare le gambe Blackmon lo fulmina in partenza Arriva fino in fondo Poi si va fuori da Blackmon Che prova a sfidare Filloy Blocco di Mochevicius Blackmon palleggia arresto Tiro! Lions va da Blackmon Che attacca il recupero di Dercole Fino al ferro Contropiede con... Si riprende il secondo quarto Con i padroni di casa In possesso!